Nel corso del III secolo d.C., nel mezzo di una profonda crisi economica e politica, i barbari premono con rinnovato impeto sulle frontiere dell'impero. In questo periodo, infatti, le popolazioni di origine germanica, franchi, goti, longobardi, si stanziano nelle regioni del Reno e del Danubio, si danno un'organizzazione sociale più stabile e passano dalla vita nomade a quella sedentaria. I più potenti e temibili nemici dei romani sono i goti, inizialmente stanziati nella regione danubiana e lungo il Mar Nero fino alle rive del Don, in seguito divisi i nostrogoti, goti orientali, e visigoti, goti occidentali. I romani, tuttavia, data la difficoltà ad arrestare l'avanzata dei popoli germanici, preferiscono lasciare che questi si insedino entro i confini dell'impero, con l'obiettivo di ripopolare zone a scarsa densità demografica e incrementare le fila dell'esercito. Tra il 249 e il 251 d.C. l'imperatore Decio riesce a limitare i primi tentativi dei goti di sconfinare oltre il Limes. Sotto Valeriano, invece, Franchi e Alamanni oltrepassano il confine e vengono poi fermati dal suo successore Gallieno. A essere minacciate sono anche le frontiere orientali dell'impero, dove la dinastia sassanide, originaria della Perside, intende espandersi sulle province romane dell'Asia minore, per assicurarsi il controllo delle vie commerciali che collegano l'India e la Cina con il Mediterraneo. Tra il 253 e il 260 d.C. i Romani subiscono una serie di sconfitte. I sassanidi raggiungono Antiochia, in Siria, e lo stesso imperatore Valeriano viene fatto prigioniero. Nella seconda metà del III secolo questi continui conflitti contribuiscono a indibolire l'impero, destabilizzato anche dallo strapotere delle legioni, che nelle varie province acclamano come imperatore i propri generali. Anarchia militare Nel 259 d.C. l'impero si divide in tre parti, l'impero delle Gallie, l'Italia e l'Africa, sottoposte a Gallieno, e una parte orientale in mano al governatore di Palmira, in Siria. Nel 273, tuttavia, Aureliano riesce a riunire e consolidare l'impero con la riconquista del regno di Palmira e la sconfitta dell'ultimo imperatore delle Gallie. Inoltre, al fine di proteggere la città da improvvisi attacchi esterni, fortifica e amplia la cinta muraria di Roma. Nel 284 d.C. è eletto imperatore Diocleziano, che divide l'impero in più parti per governarlo meglio. Nasce così la tetrarchia, governo di quattro, due augusti e due cesari, con lo scopo di reprimere più efficacemente le ribellioni scoppiate nelle province e di difendere con maggiore prontezza i confini. Amministrativamente, il territorio dell'impero è diviso in prefetture, diocesi e province, con una complessa burocrazia. L'Italia, che viene suddivisa in province, i cui abitanti sono sottoposti al pagamento delle tasse, perde i suoi privilegi. Diocleziano riforma anche l'esercito, ricorrendo al reclutamento obbligatorio nelle campagne. Per ottenere una maggiore stabilità dell'economia, la società viene organizzata in classi ben definite. I clarissimi, i perfettissimi, i curiali, i lavoratori e i contadini, tutti obbligati a tramandare ai figli lo stesso mestiere, classi sociali chiuse. I contadini sono considerati appartenenti alla terra, comprati e venduti insieme con essa. Per migliorare il bilancio, infine, l'imperatore sostituisce le cattive monete con aurei e argentei di lega a peso fisso. Nel 301 d.C., inoltre, viene emanato l'editto dei prezzi, che fissa i prezzi di vendita di circa mille specie di generi al consumo. Questo provvedimento, che provoca ben presto la scomparsa dei prodotti dal mercato, e il conseguente rincaro dei prezzi, è abrogato l'anno successivo. Sul piano politico, Diocleziano sostituisce le antiche istituzioni repubblicane con un sistema di governo basato sul potere assoluto dell'imperatore e sul culto della sua immagine, dando vita così a una sorta di teocrazia imperiale. Come ultimo atto del suo regno, egli scatena una nuova ondata, la più terribile, di persecuzioni contro i cristiani, che provoca distruzioni, torture e condanni a morte. Nel 305, Diocleziano, si ritira a vita privata in Dalmazia. Grazie. 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 Grazie.